La nostra può considerarsi ormai una società affluente, una società del benessere. Nonostante congiunture e incertezze, nel suo complesso la società italiana riesce a darsi i mezzi ad una vita civile nel senso moderno della parola, il lavoro, un'abitazione, l'assistenza medica, l'appagamento sessuale, al cibo per il solito tabù. Ma scennarono appena e con un sorriso malizioso, quasi non fosse anche quello fra i diritti dell'uomo civile. E io dovevo prendere la parola, ma Marisa mi trattenna per la manica. Ma come non è possibile dare a tutti una casa senza standardizzarla? Certo sarebbe molto più bello che a ciascuno di noi, indistintamente, toccasse una villa progettata, non so, da un de Carlo. Ma come si fa? Così, se vogliamo che tutti abbiano la loro quotidiana razione di sesso, è impossibile che le prestazioni restino quelle del tempo dei nostri nonni. I nostalgici del rapporto sessuale governato dal capriccio, dalla passione, dal cosiddetto amore, devono rendersi conto di questo dato di fatto. E poi quanti fra i nostri nonni potevano godere di quelle effusioni appassionate? Pochissimi, a ben considerare, i privilegiati per natura o per censo, i quali tuttavia neanche si potevano contare su una fruizione sicura e continua del rapporto sessuale. Anche Casanova fu costretto a lunghi periodi di astinenza, fino a quattro mesi di seguito, e figuriamoci dunque quale poteva essere la condizione dell'uomo di strada. Ebbene, bisogna ammettere che la vita sessuale oggi non conosce più le punte di delirio di cui ci parla la letteratura. Ma sarà poi stato del tutto vero? E ammettiamo pure che anche per molti oggi il congiungimento carnale è un fatto abitudinario, scipito, meccanico. Di più, cominciano a diffondersi le macchine orgiastiche di fabbricazione americana. E anzi, una ditta nostrana a Cernobbio annuncia per il prossimo dicembre l'entrata sul mercato di modelli italiani. Anche a noi, per Natale, certi amici regalarono la fellatrice modello Soch 1000 e io qualche volta l'ho adoperata, più per curiosità che per bisogno, ma non mi è mai piaciuta granché, essendo io, lo ripeto, un po' all'antica. C'è chi già possiede la polisex unifamiliare con 12 programmi diversi, per lui, per lei, per i piccoli, per la cameriera. Può anche darsi, come scrive Giorgio Bocca, che queste siano aberrazioni da paese colonizzato, però è un fatto. Ogni italiano ha la sua razione quotidiana di sesso, ciascuno può contare su almeno un coito assicurato, o ha comunque i mezzi per procurarselo. E in questo modo, oltretutto, si è debellata la piaga della prostituzione. Qualcuno potrà obiettarmi, lo so, che il rimedio è peggiore del male, nel senso che ormai sono rarissimi i rapporti sessuali gratuiti. Ma d'altra parte, in un'economia di mercato, quale altra soluzione si poteva prevedere? C'è da augurarsi semmai il contrario, che cessi, per esempio, la carità pelosa di certe associazioni cosiddette filantropiche, come la sorchetta benefica, tutte quelle dame che provvedono all'appagamento degli indigenti, e vanno in giro per le case di riposo negli alberghi dei poveri, a regalare quel bene che ogni persona dovrebbe potersi comprare. Al giusto prezzo, si capisce, e qui io sono d'accordo sull'intervento statale in funzione calmieratrice, anche a costo di importare vergini dal Libano e montatori dall'Unione sovietica. Ma meglio sarebbe seguire l'esempio dell'Emilia, rossa quanto si vuole, ma ben attenta all'interesse collettivo, formare grosse cooperative di consumo sessuale sotto il controllo democratico degli stessi soci che, oltretutto, sono una bella scuola di autogoverno. Insomma, pur ammettendo che non sarà più possibile tornare agli orgasmi della bella epoch, riservati, ripeto, a una esigua elite, dobbiamo considerare che la media della vita sessuale ai nostri tempi sia nettamente innalzata. Contribuire a un ulteriore progresso? Combattere le sofisticazioni? Intervenire decisamente a reprimere gli abusi, dovunque e comunque si manifestino. Combattere ogni tentativo di monopolio? Questo è il compito dello Stato e della società, vale a dire, di tutti noi. Lo dico per gli altri, per me. Sono contento di come mi va. Questo appunto stavo pensando mentre mi preparavo il semolino e Marisa di là consumava la sua minchia delle madonie. Mi feci scaldare l'acqua nel pentolino. Ci versai lentamente la polvere rimestando col cucchiaino. Aggiunsi qualche goccia d'olio e il sale. Avevo chiuso la porta di cucina per il timore che il bimbo si svegliasse. Era già capitato. Entrava scalzo in cucina senza rumore, ma per fortuna avevo sempre fatto in tempo a nascondere il pentolino. Continuavo a rimestare, lo sguardo fisso sulla poltiglia che a poco a poco prendeva consistenza per evitare che si attaccasse sul fondo o facesse qualche grumo. In quella poca luce il semolino era a grigiastro come il filo di vapore che s'alzava verso la cappa del camino. Mio figlio crede che serva soltanto come ingresso per la Befana. Povero piccolo. Lo sentivo sempre più consistente e denso contro il cucchiaio e, debbo confessarlo, lo odiavo. Mi ritornava a gola il sapore della bistecca, carnosa, succulenta, che serbava il sentore della brace e resisteva ai denti. A lungo, fra lingua e palato, prima di scendere a riempire lo stomaco. Come era insulso al confronto il semolino. Ti si precipita giù per l'esofago senza sostare in bocca. Eppure te la lascia impastata, viscosa. Il sapore persiste per ore e ore. Avesse almeno potuto aggiungere un altro poco di olio, uno spicchio d'aglio, posare in fondo il piatto qualche crostino. Lo so, diranno, che mi servo di questi mezzucci per solleticare in chi mi legge gli istinti peggiori. Nella solita poprita solfa dei tartufi codini e reazionari, affastellare di forza nel mazzo dei gastrografi anche la gente onesta che vive e soffre questo problema contemporaneo con la speranza di metterla a tacere. Ma io non tacerò! E neanche accetto il mezzo sorriso di certi amici che hanno sempre l'aria di dirti Ma via, piantala con questa storia del tabù alimentare e cerca di arrangiarti alla chitichella. Per chi vuol mangiare, da mangiare si trova. E come? Ma non in questo modo, pensavo rimestando il semolino che ormai era quasi pronto. Negate pure, se vi piace così, l'esistenza del tabù, il ridente per queste teorie. Il tabù, lo vogliate o no, è in voi e vi erode come un carlo a dispetto delle vostre spanciate clandestine di pasta ciutta. E' più antico di voi, è vecchio di millenni. Leggete il Frobenius, leggete il Demartino e capirete! Prima della grande glaciazione, il tabù alimentare non esisteva. Gli uomini si nutrivano uberamente. Poi con la glaciazione, il numero di animali e di piante si estinsero e per sopravvivere l'uomo si dovette adattare al cannibalismo, sicché per qualche secolo la razza umana fu sull'orlo della scomparsa totale. Ecco perché, cessata la glaciazione, tornate a crescere le erbe di cui qualche seme era rimasto vivo sotto il gelo, riformatasi una fauna appetibile, nella mente dell'uovo continuò a covare il ricordo del grande pericolo scampato e la paura che tornasse. E la cosiddetta età di Saturno, che nella leggenda ellenica divorava i propri figli. Così il cannibalismo fu bandito, e a poco a poco dal cannibalismo l'interdizione si è stesa a tutta la sfera alimentare. Mangiare diventò peccato, anzi delitto contro la propria specie, ma siccome ovviamente gli uomini non potevano condannarsi al digiuno e alla morte, ma veramente ci trovarono il Medioevo, e popolato di torne astinenti dal cibo, che scorrevano l'Europa, l'acere e scarre, sorsero leggi e ordinamenti, che imponevano a ciascuno un solo alimento. La prima evoluzione contro il tabù è contenuta in germe nel cristianesimo primitivo. Oggi, purtroppo, la parola del maestro ci giunge sfisata dal sordo lavorio degli esegeti. A scuola di catechismo si insegna, per esempio, che Gesù compì il miracolo di moltiplicare i membri, che non bastavano a tutta la folla adunata per sentire la sua predicazione. In questo caso ci si è fatti forte del doppio significato che la parola pesce ha in tutti i dialetti dell'Italia meridionale e di tutta l'area mediterranea. La verità è che il Salvatore moltiplicò dei veri e propri pesci, e quella turba ne mangiò liberamente, abbondantemente. Versai il semolino nel piatto e non mi decidevo ancora. Lo guardavo fissamente, con odio, insieme con vergogna del mio odio, perché, dopo tutto, era il mio semolino, quello che mi aveva nutrito, cresciuto, accompagnato per dieci anni di vita. E non è facile abbandonare così un alimento che ti fu caro, il cristianesimo primitivo, pensavo. L'ultimo incontro di Gesù con gli apostoli e gli esegeti vogliono farci passare per un convegno omofilo fu in realtà un'orcia alimentare nella quale si rievocava simbolicamente il tabù del cannibalismo. So che mi daranno addosso per questa affermazione, ma quell'incontro fu una vera e propria cena, l'ultima cena. Dobbiamo pensarla così, anche se l'iconografia ufficiale ha scelto l'altra, più comoda ipotesi. E le sue parole furono «Prendete e mangiate». «Questo è il mio corpo». Presi il piatto. Lo posai sul tavolo, mi sedetti, afferrai il cucchiaio. «Signore, pensavo, perché non fai ritorno tra noi». Grazie per la visione.